veniamo a noi allora elena era fatto prima sessione poi si è rivolta a un operatore che ha fatto tre trattamenti con lei di 34 trattamenti poi dopo alcuni mesi si sono iniziati a verificare dei sogni ripetuti per diversi giorni abbastanza inquietanti esseri con corna tutti i tipi caprini bovini tori eccetera scene di sacrifici se in scene di orge tra uomini guerrieri uomini sodomizzati uomini uccisi sacrificati di mezzo c'è la madre che non c'è più e il fratello che ancora vivo causa esoterica se tutti questi eventi sono collegati lo vediamo adesso in questo confusione allucinatoria residua residua rispetto a queste sessioni anche se era passa sono passati alcuni mesi però è come se lei ti ripeto fosse rimasta in questo corridoio confusionale temporale allucinatorio ok alcuni sogni secondo me tra l'altro sicuramente di minor portata lei non li ricorda ma ci sono stati questo particolarmente forte e quindi se lo ricorda anche perché ha a che fare direttamente con la sua vita in che senso nel senso che tutti i componenti che vengono sacrificati sono maschili e infatti gli elementi più negativi della sua vita sono maschili è come se ci fosse proprio un racconto della sua famiglia in cui questi elementi maschili sono stati molto negativi e quindi alcuni è come se lei li volesse tra virgolette giustiziare va bene ma salvando il fratello perché è come se lo volesse togliere da questa roba e infatti nel sogno è presente anche la madre che gli fa vedere che questa è la storia è la storia è il racconto familiare il tutto ovviamente intrecciato a dei rituali legati a la provenienza di questo guaritore ok questi in questi rituali molto di sussulto di intrecci di corpi ritmi sì esatto abbiamo visto che c'è una linea temporale in cui elena salta sia i trattamenti con questo uomo che l'infortunio al ginocchio e fa subito la sua seconda sessione e abbiamo detto che sta bene quali risultati ha ottenuto dico solo l'ultima cosa che mi è arrivata come un po il ritardo no mi fa vedere questo guaritore che in una delle sue personali perché anche lui li fanno questi viaggi diciamo così lui per entrare in all'interno di questi ritmi si mette proprio una specie di copricapo con le corna che serve proprio a potenziare gli effetti di questo viaggio un viaggio sì un viaggio diciamo sciamanico tribale allora facciamo una considerazione io ho notato che questa cosa serve a elena ma come a tutti che la seconda sessione è un grosso ostacolo mi è stato anche detto il suo stato criticato in questi ultimi giorni di spingere troppo le persone alla loro seconda sessione o anche alla loro prima ma soprattutto la loro seconda sessione di essere troppo insistente e di allontanare le persone però questo è il risultato elena fa la sua prima sessione e poi invece di continuare il lavoro come praticamente avevamo detto se ne va a fare 3 4 trattamenti da quello dell'uomo dell'albero del tempo con le corna forma di alce e quant'altro ed arrivano sogni satanici quindi io voglio capire che cosa sta succedendo siamo ci siamo infilati in una linea temporale che non ci aggrada monica è il lavoro di una qualche compagine di entità è un normale ritardo della 4d per i più che cosa succede serve uno nuovo periodo di pande minchia per svegliare nuovamente le persone perché da dopo la pande minchia le persone sono tornate in una specie di sonno letargico dove si svegliano soltanto quando si parla di cinivac e poi c'è tanta paura di essere ingannati e di essere fregati di essere sfruttati anche come successo ad elena da a casa del tipo che ha fatto i trattamenti e per assurdo si pensa che un nuovo personaggio non farà questo invece magari pensano ecco mi vuole ancora spillare tempo e soldi non pensano invece questo di uno nuovo per esempio no come come ha fatto per esempio elena è come se ci fosse una sorta di anche di diffidenza acquisita senza discernimento c'è un'entità mentale collettiva se sì chi l'ha messa lì e dov'è e come vedi mi fa vedere appunto questo ragno che inserisce delle ragnatele che quindi vengono viste come ragnatele dalle persone laddove non c'è un inganno laddove non c'è una trappola dov'è entità mentale collettiva e trappole inesistenti dov'è sopra l'italia come se fosse messa in ciascuna casa prendo una duna nella mia realtà non esistono più vengono inglobate come fanno i globi bianchi mi sembra che si inglobano il virus il batterio non esiste il batterio se lo mangiano da un mio personale ad eternum forma di cicciottino bianco nella mia linea temporale questa rottura di cazzo io non lo voglio non la desidero non mi dà nulla è un'esperienza che non accetto il signore che mi ha fatto notare che va più a danno delle persone le allontana più che avvicinarle ha deciso di non fare nessuna sessione perché ha il suo percorso personale è pulito quindi e ha visto questa ragnatela ma è pulita visto questa sta facendo un percorso di auto pulizia allora lui no 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 assolutamente no vedo che vede questa grossa ragnatela lui la vede fuori cioè nel senso come se lui guardasse fuori dalla finestra e vede che in questa ragnatela al centro ci sei tu che sei il ragno no un ragno che c'ha la tua faccia però poi in realtà è come se non riuscisse a vedere che c'è una enorme ragnatela che prende la sua camera da letto quella non la vede ok il mio la mia eliminazione di questa entità mentale collettiva è avvenuta certo sì di questa persona questo uomo per esempio la faccia mia come ragno nella ragnatela non la vede più perché non c'è più e no perché c'è lui filtra con le proprie entità allora mi sfugge il meccanismo se nella mia realtà io ricevo questo danno la gente non mi dà retta e non ha nessun senso io tolgo queste interferenze se nella mia linea temporale le persone finalmente mi vedono per quello che sono poi ci sarà anche una linea temporale in cui quello ha si guarda le sue entità e viene influenzato dalla sua entità ma nella mia linea temporale questo non avviene più per come vedo io accade che arrivano nuove persone che hanno occhi va bene mandiamo un messaggio a tutti quelli che vogliono fare una sessione che il tempo sta scadendo giusto monica è un tempo importante questo sì è un tempo molto importante da far fruttare questo è certo è un tempo importante da far fruttare questo è un tempo che 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 è un tempo